Cucinare nello spazio non è certo un'impresa da Masterchef, niente padelle e fornelli per ovvi motivi di sicurezza, le fiamme libere sono bandite e niente liquidi che possono svolazzare liberi per i moduli. Quindi ci si limita a scaldare con un fornelletto elettrico buste di creme preconfezionate. In questo caso l'italiana Samantha Cristoforetti ha optato per un menù che prevede il riso integrale con polla, la curcuma e funghi. Vediamo allora come si fa. Userò invece del piatto una tortiglia, ne abbiamo molte, qui diciamo che sono un sostituto del pane perché non fanno briciole, quindi sono comodo in questo senso. Per prima cosa stendo uno strato di crema di piselli per cercare di fare in modo che gli altri ingredienti rimangano attaccati, non volino via. Qui come vedrete tutto vola via facilmente. Apro un'altra busta, questo è uno degli utensili più importanti nella cucina spaziale, è la forbice per aprire le buste. Le buste le ho già scaldate nel nostro fornelletto elettrico. Apro un'altra busta, questo è uno degli utensili più importanti nella cucina spaziale. Apro un'altra busta, questo è uno degli utensili più importanti nella cucina spaziale. insieme a questo video troverete anche un video che spiega come fare questa ricetta a casa nella vostra cucina e quindi magari avrete voglia di rifare la stessa ricetta che mangio qui io adesso, magari insieme alla vostra famiglia. Se lo farete non dimenticate di mandarci una foto, un piccolo video, ci farà sicuramente piacere condividerlo. Buon appetito! Molto buono! Molto buono! Molto buono!